Nella tradizione ebraica Elia, tra le tante funzioni e tra i tanti ministeri che ha, è uno molto particolare, presiede alla circoncisione, e lì su, ogni volta che viene circonciso un bambino, Elia è lì. Ma questa è una circoncisione molto importante, perché lì c'è una violenza che incide la carne, da dove passa il seme della vita, per ricordare a Israele un'alleanza, che è un popolo consacrato a Dio, che è già una porzione del regno di Dio sulla terra. E questo non si compie senza una violenza nella carne, senza una circoncisione nella carne. Noi sappiamo che siamo chiamati alla circoncisione non della carne ma del cuore, che significa una cosa sola, rinascere dall'alto. Per questo Giovanni Battista è nato da donna, ed è il più grande, il più grande profeta, quello che si è avvicinato più a Cristo, che lo ha visto, che lo ha guardato, che lo ha indicato. Come diceva San Piero Crisologo, tutti vogliono vedere l'amore, desidera vedere l'amato e fa cose assurde per poterlo vedere, eppure tanti profeti e re non hanno potuto vedere Cristo. Giovanni Battista è l'unico profeta che ha visto il Messia e lo ha indicato, il più grande di tutti, umile, umilissimo, che sparisce alla vista perché possa essere visto e creduto il Messia. Eppure non fa parte del nuovo mondo, non fa parte del nuovo eone, è ancora sulla soglia del Nuovo Testamento, è ancora sulla soglia del Regno dei Cieli, nato dalla Chiesa, nato dal seno di Maria, è il più grande. Della grandezza che solo la grazia sa offrire, la grandezza di chi vive una vita nuova, gratuitamente ricevuta, perché gestato e dato alla luce attraverso le acque benedette della Chiesa, le acque del Battesimo. Non è il più grande nel Regno dei Cieli nel senso che è il migliore, che è il più geniale, il più grande nel senso umano, ma è il più grande perché è il più piccolo, perché è colui che serve, perché vive la vita di Cristo, perché Cristo è vivo in lui. Chi vuole essere il più grande tra di voi sia l'ultimo e il vostro servo. È dunque il più grande nel Regno dei Cieli colui nel quale si compie questa parola che è il rovesciamento totale dell'inganno del demonio, cioè della superbia, che ci spinge ad essere più grandi degli altri per poterli dominare, per poterli possedere, per poter gestire le persone e i fatti della vita, come fossimo Dio. Chi è nato nella Chiesa è più grande di Giovanni Battista. Comunque il più grande tra i figli di donna è la sua umiltà, frutto della vita di penitenza che ha vissuto proprio per indicare e annunciare il Messia. Chi è rinato da acqua e da spirito è più grande nel Regno dei Cieli. È dei violenti nel quale entrano i violenti. Qual è la violenza? La violenza che è il passaggio dal seno della madre alla vita, il Battesimo, che non è senza violenza per la madre che soffre tantissimo quando partorisce. Come soffre la Chiesa, e lo dice San Paolo, che soffre le doglie del parto per partorire e dare a luce nella fede i neofiti, le sofferenze degli apostoli, le sofferenze della Chiesa, le persecuzioni, le incomprensioni, l'irrilevanza, il rifiuto e la messa al bando. Tutto ciò che soffre la Chiesa, che soffrono i suoi membri, è la sofferenza che suppone la violenza che la Chiesa subisce e assume sopra di sé e prende sopra di sé. E per questo si dice che il Regno di Dio subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono, coloro i quali, cioè, fanno violenza all'uomo vecchio per non resistere al male. E pieni di Spirito Santo, pieni della vita di nostro Signore Gesù Cristo, stendono le braccia e si fanno violenza, sono violenti con se stessi, per assumere su di sé il peccato del mondo, la violenza del mondo. E così compiere la missione che il nostro Signore Gesù Cristo ha affidato alla sua sposa, alla Chiesa, per poter generare alla fede nuovi figli. Ma così anche per il figlio. Nessuno di noi può dire quello che ha sofferto nella nascita, ma abbiamo sofferto tutti. È il combattimento che si rinnova ogni giorno per passare alla luce, per passare alla verità, per vivere una vita nuova, che sempre comporta lasciare qualcosa di vecchio, comporta lasciare l'utero della madre, comporta lasciare le sicurezze, comporta lasciare l'essere costantemente ripiegati su se stessi, viziati e borghesi nel cantuccio, nel divano, e vivere una vita nuova, una vita nell'ignoto insieme a Cristo, per vedere Cristo. Dove? Nella giornata di oggi, in ogni giorno. Questa è la violenza, umile della fede, che comporta la rinascita in quel rapporto, in quella relazione, nel lavoro, in ogni momento. Questa circoncisione del cuore, che è la nascita, la vita nuova. Allora, che il Signore ci conceda oggi il desiderio ardente di vedere il nostro Signore Gesù Cristo nella nostra vita, che significa essere in comunione con Lui, che significa passare oggi al Regno dei Cieli, qui sulla terra, e non avere paura, non avere timore di lasciarci circoncidere, di soffrire veramente la violenza che suppone il Regno dei Cieli, che suppone il taglio di tante nostre sicurezze, di tanti nostri criteri, per poter entrare in comunione con il Signore nella vita nuova. Grazie. 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 Grazie.